buongiorno a tutti oggi parliamo della sublimazione sublimazione su mattoncini bianchi questo per esempio è la misura 10,80 x 10,80 ok stampiamo con una stampante sv grass 400 formato a4 stampiamo ciò che dobbiamo trasferire sui mattoncini in questo caso questo è il il logo la grafica in speculario ovviamente una volta stampato questo le mattonelle vengono messe praticamente sopra così ecco così centrate qui dovete farlo leggermente più grande la grafica in modo da non rischiare di avere degli spazi bianchi vuoti ok adesso ci trasferiamo alla pressa dove ho già posizionato quattro mattoncini ecco qua questo è uno scotch speciale proprio per le alte temperature la pressa in questo caso la mia una scissor ts one va messa a 200 gradi per 300 minuti 300 secondi ok una volta che si ferma da sola la pressione che è molto importante deve essere leggera quindi praticamente proprio si deve appoggiare così piano piano così ok e niente poi vi faccio vedere come come il risultato ok attenzione che quando aprite giustamente è bollente tutto bollente quindi vi mettete guanti oppure aspettate un momentino che si sfreddi ok il risultato poi sarà questo comunque io ne ho già fatto un bel po eccole qua lo sfondo potete creare quello che volete guardate come sono belle lucide bene anche i bordi deve prendere se tu non fai quella cosa con lo scotch bordi non li prende quindi bisogna farlo anche se ti dicono non c'è bisogno bisogna farlo va bene alla prossima ciao ciao da stefania gina a ridere se tutto ciao ciao